Questo è un governo di centro-sinistra in Italia, questo ci stanno dicendo, un governo di centro-sinistra, con lei premia, oppure Renzi, se no di chi vince, prendo l'alleato, di Pietro, magari ci può essere? Assolutamente sì, adesso magari sull'ultima ipotesi avrei qualche perplessità. Casini ha ragione un po' a giorni alterni, io lavoro per il campo dei progressisti con delle regole chiare, da Casini se c'è da discutere mi presento un po' io, portando un'alleanza dei progressisti che è in grado di sostenere stabilmente un governo. Loro decideranno come vorranno, noi non faremo regali a Berlusconi, alla Lega e ai populismi e quindi saremo aperti a una discussione con un centro moderato. Noi siamo disposti, avendo noi consegnato un'ipotesi di compromesso, a essere flessibili, ma insomma quella sera bisogna capire chi governa. Non siamo d'accordo poi, naturalmente non c'è la maggioranza in Parlamento, non siamo d'accordo con le preferenze, perché temiamo che possono essere un luogo nuovo di discredito del rapporto fra cittadini e politica. vogliamo la parità di genere e non vogliamo casi silipotti.